Salve a tutti ragazzi Tu 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 Ok, eccomi qua in un nuovo video Allora, questo è un video un po' strano Perché Io lo Lo dico, poi se voi volete fare a scelta vostra Allora, è tipo un sondaggio Ok, uno dei miei capelli Senza trucco, perché era inutile Truccarmi Ma sono Sono due di notte, però prendo sonno per niente Ok, allora Io volevo fare questa cosa Non so come chiamarla, come dirla o spiegarla Tampo che ci penso Ok Allora, farò tipo di sondaggio In pratica Voi mi mandate nei messaggi privati Di Facebook, Rosa Giglio I vostri numeri di telefono I vostri numeri di telefono, nomi E l'età Io In questi nomi E i numeri di chi mi mandate Io sceglierò Io sceglierò 5 persone da chiamare In pratica Mentre io vi chiamerò Così registrerò Il video Mentre voi state a cellulare Il video lo metterò In secondo momento In pratica Voi mi mandate Per dirvi il vostro numero di telefono In privato Scrivete Mi chiamo Giulia Ho 20 anni Mentre io parlerò con voi Al cellulare Mentre io parlerò con voi Al cellulare Vi registrerò Così in prossimo video Vi sentirei nella registrazione Del video che faccio E se lo volete fare È a libera scelta Se no Non farete Non ci rimano male Perché comunque È una cosa bellissima Per farvi sentire E mettermi nei miei video E niente Io volevo fare questo video A bolla Per dirvi Questo avviso Non so come mettere il titolo Avviso o non avviso Comunque io sceglierò In 5 persone Massimo 10 Se riuscirò a fare Le 10 persone Mentre parlerò con voi Al cellulare Vi registrerò Vabbè Vi ho detto tutto E mi raccomando Il numero di telefono In privato Perché comunque Io poi dopo lo cancellerò Tranquilla Tranquilli Nome E Non cognome Nome Nome Il messaggio Che mi volete inviare Diciamo tipo Rosa Ciao Rosa Mi chiamo Davide Per dirti Ho 20 anni Mi piacciono Tipo queste cose qua È libera scelta vostra E io Vi registrerò Mentre parlate Niente Io volevo dire Solo questa cosa Se volete Non c'erano problemi Noi ci vediamo A un prossimo video E vi ringrazio Tantamente tanto Per questi 142 iscritti Per me sono Una cosa Eccezionale Non lo so Se farò Prima di Natale Prima del 24 Ovviamente Che c'ho tipo Solo Tre giorni di tempo Per fare Qualche Come dire Per Fare Un incontro Vediamo un po' O se no Se ne parla Dopo le Dopo delle 27 Che c'ho Nella settimana Di tempo Per incontrarvi E niente Vi saluto qua Vi ringrazio E ci vediamo Nel prossimo video Ah dimenticavo I messaggi privati Su facebook Rosa Giglio Il nome Di due Fiori Rosa Giglio Mi raccomando Un bacio Una settimana